Compra in valle, la montagna vivrà è la campagna lanciata dal LUNCEM per sostenere le imprese e gli esercizi commerciali piccoli produttori radicati nei 553 comuni montani del Piemonte. L'iniziativa è stata presentata ieri, venerdì 20 luglio, a Lanzo e coinvolge 19 comuni. Alla presentazione è partecipato il consigliere regionale Celestino Olivetti che ha esortato anche i residenti ad acquistare... Il progetto di Compra in valle, la montagna vivrà è un po' una ripresa di quella che era una campagna che aveva lanciato l'UNCEM un po' di anni fa. Devo dire che essendo le valli di Lanzo area interna, in attesa di questa definizione, di quelli che sono i parametri che possono essere in qualche modo utilizzati per sviluppare la nostra realtà, credo che oggi sia fondamentale mantenere quello che c'è per la vitalità dei nostri comuni e quindi lanciare la campagna che non solo quelli che vengono in villeggiatura possano acquistare i prodotti genuini delle nostre valli, ma anche i residenti che abbandonino un po' i centri commerciali, questo non per avercela con i centri commerciali, ma che lasciano il loro contributo a questi negozietti che sono la vitalità e la spina dorsale dei nostri comuni. Senza questi servizi la montagna continua a spopolarsi e quindi ritengo che sia importante sensibilizzare e questa campagna è fatta proprio in quell'ottica. Marco Bussone, neopresidente UNCEM, ha ribadito l'importanza dei negozi di montagna, la cui chiusura segnerebbe lo spopolamento. Un'iniziativa che nasce da un approccio tutto culturale, cioè spingere i consumatori a scegliere i piccoli negozi, le botteghe dei nostri paesi, delle nostre valli. In Piemonte 300 comuni non hanno più un negozio, altrettanti sono a rischio spopolamento e abbandono anche commerciale. Allora dobbiamo quindi lavorare su un fronte certamente culturale in primo luogo, spingendo chi vive nei territori, i turisti e gli operatori, a scegliere il territorio e a spendere anche qualche risorsa nel territorio. E poi bisogna fare un'operazione politica. Dobbiamo agire col Consiglio regionale del Piemonte, con la consigliera Olivetti, con i colleghi, con i parlamentari piemontesi, affinché ci sia una differenziazione delle imposte per gli esercizi commerciali, le imprese dei territori montani. Non possono pagare le stesse tasse che pagano i negozi e gli operatori in centro a Torino, in centro a Milano o in centro a Roma. Serve una differenziazione della norma.